La famiglia la tiene stretta tra le mani e la foto di Francesco Lobefaro, brigadiere a cavallo dei regi carabinieri. Da oggi una strada di Barletta avrà il suo nome. Sono trascorsi 80 anni, da quel 21 dicembre del 1942, quando il barlettano perse la vita sul campo di battaglia a Mitrofanoska, all'epoca fronte russo. Non voltò le spalle ai suoi compagni, come ha raccontato il comandante provinciale BAT dell'arma dei carabinieri, colonnello Alessandro Andrei. È un messaggio assolutamente di esempio di chi è comunque fedele ai propri valori più intimi, ai valori che l'hanno portato a giurare fedeltà alla Repubblica Italiana e che anche nel momento di estrema difficoltà, di estremo bisogno, dà fondo al proprio coraggio e trova la forza di commettere comunque dei gesti di altruismo e di forza anziché fermarsi, sapendo di essere esposto anche con la propria vita e quindi poi anche sfortunatamente andando incontro all'estremo sacrificio. Di quei giovani italiani i genitori non poterono piangere neanche le spoglie, che rientrarono in Italia nella prima metà degli anni 90 del Novecento, quando caduto il muro di Berlino e finita la guerra fu possibile dare sepoltura perpetua a chi viveva nel ricordo di parenti ed amici. A ricordare Francesco Lobefaro tutta la famiglia a Senigaglia, come la signora Marisa, cugina di primo grado, figlio unico. La madre non smise mai di piangerlo, fu il lutto fino a quando si ricongiunse con lui. Morto addirittura 80 anni fa e riportato a Barletta dopo che la mamma non c'è più. La mamma aveva soltanto 48 anni, un amico nuovo e quindi stiamo a fare le sue vici. Lo abbiamo amato sempre e neanche a farla apposta. è morto nella zona di guerra odierna, una guerra che noi non condividiamo e quindi c'è dolore ancora di più questa morte inutile. Per i fatti d'arme gli viene conferita la croce di guerra al valor militare con la seguente motivazione. Nel corso di ripetuti attacchi aerei particolarmente intensi, rifiutava di ricoverarsi nel fosso Paraschegge per prodigarsi allo sgombero di numerosi feriti finché rimaneva colpito a morte. Un esempio dunque di umanità e di solidarietà ha dichiarato il primo cittadino Cosimo Cannito. È un dovere istituzionale della nostra città ricordare queste persone che sono morte anche per causa, per portare aiuto agli altri. e questa è una cosa che veramente mi emoziona e quindi è un dovere nostro. Ho voluto proprio io, come Presidente della Torponomastica, accettare questa proposta dei parenti che effettivamente portano nel loro cuore questa persona.